Bentornati alla cucina dei Wigwam, questa sera è tematizzata ai funghi, un fungo particolare in Italia praticamente sconosciuto, anche se è il secondo fungo più consumato al mondo, un fungo che arriva dal Giappone, si chiama shiitake, e che questa sera costituisce l'ingrediente principale di quasi tutti i piatti che presenteremo. Si comincia dalla pasta, rigatoni ai funghi shiitake trifolati con pesto di rucola, una ricetta semplice e particolarmente adatta per comporre un menù autunnale. Preparo i funghi pulendoli ovviamente prima e poi li taglio a pezzettini, li faccio saltare in padella con un goccio d'olio di sottofondo, anche un piccolo soffritto di cipolla, li scaltrisco e praticamente li faccio, li scotto in pratica, aggiungo un sale aromatizzato alle erbe e poi verso la fine il pesto di rucola, che è fatto con rucola tritata, mandorle, griglie di noci spellate e olio extravergine di oliva al crudo e uno spicchio di aglio. Questo particolare fungo non è solo un alimento ma anche un medicamento. Assumere uno shiitake crudo al giorno aiuta infatti a tenere sotto controllo diverse patologie, con effetti positivi anche su livelli glicemici e di colesterolo. È un antibiotico naturale, ecco perché mi ha veramente entusiasmato su questo, perché non fa i vermi, quindi è molto resistente, una volta raccolto dura 3-4 settimane in frio, tenuto al fresco. Molto diffuso in Giappone e apprezzato in virtù delle sue proprietà curative, il fungo è stato importato in Italia da un imprenditore veneto, che nel 2010 ne ha avviato la produzione tra i colli Uganei e la marca trevigiana. Sì, viene coltivato nella nostra zona in serra, in una temperatura da 16-18 gradi, e quindi è molto difficile perché l'umidità, la temperatura, l'aria, la luce, ecco, però il fungo è molto resistente. Come secondo è stata proposta una caprese a base di mozzarella di latte di riso, condita con un filo d'olio della Maremma Toscana, origano calabrese e sale marino. Questo è un formaggio sicuramente più digeribile del formaggio, quello classico di latte animale, latte vaccino principalmente, perché non ha le componenti del lattosio che a qualcuno può dar fastidio. È totalmente vegetale, di origine vegetale, quindi adatto per persone che fanno scelte dietetiche, di cucina vegana piuttosto che vegetariana. Ma può essere una curiosità e uno sfizio anche per chi è carnivoro, ma insomma desidera esplorare altri orizzonti delle culture culinarie diverse. Infine è un doppio dessert, anche questo a base di funghi she-take, che tra gli invitati al workshop Wigwam ha fatto capolino un gelato al cioccolato a base acquosa, impreziosito nel gusto dalla presenza di piccole scaglie di funghi lessi e poi un cremino davvero particolare con cioccolato, nocciola e funghi secchi. Questo fa sì che il prodotto si presenta, come vedete, tipico, sembra un wurstel, un salamino, si è usato comunque l'involucro tipico dei wurstel per inserirlo, si taglia in forma morbida, resta morbido grazie alla nocciola e il fungo all'interno si sente in seconda, in terza battuta di assaggio. Mi spiego meglio. La prima fase di assaggio spicca la nocciola, poi subentra il cioccolato e alla fine della degustrazione, proprio che abbiamo mangiato praticamente tutto, il palato si pulisce, resta il sapore del fungo finale. I vini scelti per accompagnare i piatti della serata, un bianco e un rosso, vengono da Breganze, nel Vicentino. Questa sera, proprio per l'occasione, abbiamo portato due prodotti veramente particolari della nostra cantina. Il Vespaiolo della selezione Savardo, che è il nostro vitigno autoctono, che si trova solo a Breganze. Il Vespaiolo è un vitigno particolare perché ha dei gusti, dei sapori e profumi intensi, di fiori, di frutta e si presta all'inabbinamento con tanti prodotti, tra cui la frutta, i funghi, soprattutto è abbinato con il baccalà, che è il massimo della nostra tradizione, cioè il Vespaiolo col baccalà. Oltre a questo prodotto, questo bianco, abbiamo portato il cabernet della selezione Savardo. Questa selezione Savardo di cabernet, un cabernet Sauvignon, ha un profumo molto intenso, viene lasciato a riposare un paio d'anni su delle botti di legno e poi imbuttigliato e messo in consumo. È un prodotto che ha un buon rapporto di gusti e di profumi, con non forti profumi intensi di legno, ma logicamente porta ancora il sapore della frutta e dell'uva della nostra zona.